Seconda giornata del forum, quali sono i temi usciti oggi? È stata una giornata densa di contenuti. Stamattina c'è stato un dibattito di altissimo profilo scientifico sul tema di oggi, che è i vaccini. E ci hanno spiegato, una cosa magari da risentire, non solo quando e come ci vacciniamo, ma chi deve essere vaccinato e in che modo e in che forma. Questo tema lo riprenderemo in una sessione venerdì mattina, dove spiegheremo l'intero piano nazionale dei vaccini. Poi c'è stata una bella sessione sul modo come riorganizzare la rete degli ospedali e sul modo come collegare i servizi dell'ospedale ai servizi del territorio fino a portarli, cosa che non siamo riusciti fino ad oggi, servizi sanitario e sociali a casa delle famiglie, utilizzando anche la telemedicina e la teleassistenza. Poi ora è un corso, una bellissima sessione per dire come spendere i fondi della sanità. Noi spero che i soldi europei arrivino, spero anche che arrivino soldi del Messe, 36 miliardi che servirebbero per rinnovare l'insieme del mondo della sanità, però il problema, cosa che si sta discutendo in questo momento, è come spendere, come e in che modo spendere. Poi ci sono tante altre sessioni, alcune le avete seguiti direttamente voi. Insomma, se devo fare una valutazione a metà dell'opera, perché siamo al secondo dei quattro giorni, sono più che soddisfatto dei risultati, non solo per quanto riguarda la qualità di coloro, delle centinaia e centinaia che si sono collegati e delle migliaia che stanno seguendo il forum, ma anche per i contenuti. Ad esempio oggi la notizia del giorno è che qui, proprio qui al forum, è stato annunciato per il 29 o 30 di dicembre il famoso, ormai famoso, da stamani famoso, Vaccine Day, cioè il giorno in cui in Europa si incomincerà a vaccinare. E quindi sono contento.